Mobilificio Arte e Redi, quando il mobile diventa arte. E' stata rimossa l'impalcatura davanti al mercato ittico di Sciacca, siamo con l'assessore alla pesca Francesco Di Mino, i lavori saranno completati entro il prossimo mese di giugno, ma l'obiettivo dell'amministrazione è di procedere anche all'affidamento per la gestione del mercato entro giugno, è così l'assessore? Sì, intanto vediamo l'impalcatura che è stata tolta, quindi segno che i lavori sono in una fase finale, ora aspettiamo gli arredi interni che dovrebbero arrivare entro poche settimane e poi naturalmente capiremo per l'affidamento. In realtà per l'affidamento già abbiamo avuto una prima discussione con le tre cooperative di pesca, abbiamo discusso con loro perché naturalmente è attualmente vigente al Comune di Sciacca un regolamento del mercato ittico ed è un regolamento che comunque è collegato alla legge degli anni 50 che regola i mercati ittici a livello nazionale, quindi ora stiamo vagliando se quel regolamento è ancora valido e dovrebbe essere valido e poi stiamo anche vagliando per quanto riguarda l'affidamento. Naturalmente l'obiettivo nostro è quello di fare in modo che questo mercato susciti un interesse economico tale in maniera tale che gli operatori economici possano partecipare a bando per la gestione e questo può diventare una risorsa fondamentale per il Comune di Sciacca e per tutto il pescato e la vendita all'ingrosso che ci può essere qui a Sciacca. Nel passato questo mercato si è tentato durante questi 25 anni di chiusura anche a seguito di lavori che sono stati eseguiti una riapertura che però non ha avuto particolare successo. Ecco, voi per destare l'interesse degli operatori a portare il pescato all'interno della struttura e a non effettuare la vendita diretta nella banchina a seguito dei controlli sanitari cosa farete? Diciamo che le tempistiche ma anche le normative sono cambiate, quindi ora un mercato ittico diventa un punto di sfogo fondamentale. Quindi non diventa un'opzione ma diventa quasi un obbligo ed è un obbligo che quindi suscita l'interesse economico. Quindi credo che avere un mercato ittico migliora sia la qualità del pescato ma anche la qualità di piazzamento del prodotto sul mercato perché significa che chiunque vuole comprare il pesce sa che c'è un punto di vendita all'ingrosso e viene direttamente qui. Quindi naturalmente se prima non era un'esigenza ora lo è diventato perché le normative sanitarie specialmente sono totalmente cambiate. Se il mercato ittico l'apertura si aspetta da circa 25 anni, il mercato che è qui davanti a noi è stata realizzata la struttura da circa 5 anni, cosa manca per poterlo aprire? Allora per quanto riguarda il mercato del pescatore già lì era stato fatto un affidamento dalla precedente amministrazione poi noi abbiamo tentato di aprirlo e quindi quantomeno di consegnarlo agli affidatari che poi sono le tre cooperative che hanno costituito i tonati solo che abbiamo visto che c'erano dei problemi di manutenzione e quindi siamo intervenuti praticamente per cambiare le saracinesche e ora stiamo intervenendo per sistemare le celle frigorifere che sono comunque fondamentali per il mercato. Quindi già sono state avviate le interlocuzioni con i fornitori e con i manutentori delle celle frigorifere a giorni verranno, sistemeranno quelle e poi si potrà consegnare alle tre cooperative questo punto di vendita al dettaglio che diventa fondamentale ma anche molto caratteristico perché credo che il turista che venga qua in banchina a vedere un punto di questo dove si può vendere il pesce e lo vede qualunque qualcosa di caratteristico diventa qualcosa di bello ma anche di attrattiva turistica. Entro fine giugno possiamo dire che saranno aperti sia il mercato ittico che il mercato del pescatore? Allora è più facile il mercato del pescatore perché comunque lì diciamo la donnautenzione è qualcosa veramente di poco e stiamo già a buon punto. Per il mercato ittico ci riserviamo appunto prima di capire bene come fare un bando che può avere l'interesse economico degli operatori perché non vogliamo fare un bando che vada deserto vogliamo fare un bando che mostri l'interesse degli operatori economici tanto è che abbiamo già parlato con le tre cooperative di pesca che in questo percorso sono parte integrante e anzi diventano veramente una parte fondamentale di questo processo. Entro l'estate a suo parere? Sì, entro l'estate ce la possiamo fare.